Un tempo il mondo apparteneva a noi. Poi loro si sono presi il cinema. Poi loro si sono presi la moda. Loro si sono presi la musica. Adesso vogliono prendersi anche la letteratura. In un mondo in cui l'assalto dei bimbi minchia sembra ormai essere inarrestabile. Una giovane scrittrice di talento avrà il coraggio di dire no ai facili sentimentalismi. No al sesso piazzato ovunque perché tanto le scopate vanno sempre in moda. Fra il mura della sua stanza contro il mondo intero, armata solo dalla propria intelligenza di una penna, lei avrà il coraggio di dire basta. E così cambierà. Niente, perché non se la filerà nessuno. Grazie. 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 Grazie a tutti.